Attenzione, attenzione! Perché i server forse sono online. Andiamo! È tornato lo spas. C'è un nuovo fucile di caccia, fucile di caccia, quello. E poi altre cose che adesso andiamo a vedere. Mi raccomando, lascia un like al video, iscriviti al canale se no ti puzza il culo. Eccole i nuovi stili! Abbiamo un nuovo stile per il deltaplano, piccone, scusa, deltaplano, backpack, piccone, rubino con questo stile molto bella, abbiamo lui con questo stile, molto carino lui, tanto carino. E abbiamo anche lei, con la coda. La mappa è cambiata! Oddio, pinnacoli vendenti! Ah no! Daccelo tutto in faccia! Lo spas. Bam! Morto? C'è un tizio. Magari ce l'ha lui. Ce l'ha lui? Non ce l'ha lui. Let's go! E... No. Troppo non lo è. Tu muori, grazie. Mi stavo già gasando, va a cagare. Ho detto, eccolo! Eeeh! Auguri, auguri, Nukazu! Vediamo, l'ho ucciso. Allora, il fucile da caccia c'è, però c'è il marasma. C'è questo fucile da caccia, ragazzi. E basta. Lo prendiamo? Lo siamo? Vedi, il fucile da caccia c'è. Vediamo un attimo com'è, com'è, se è buono, si fa a cagare. Proviamo a sparare? Porca troia, come esplode! Porca miseria! Era safe. Minchia, come esplode? Sono curioso di testarlo su un tizio. Mamma mia! Eeeh! Porca miseria, ho uno shottato! Ma forse aveva due di vita, non lo so. L'ho shottato! What the fuck? Alzo le mani. Bam! 38! 38! 30! Questo è buono, però, nei mar. Allora, allora, era un botto questo qua e va bene. Toglie 38 a botta. È buono perché fa danno ad aria, quindi anche se lo spari, se missi il colpo, cioè se non prendi lui e spari vicino a lui, comunque lo prendi. Però 38 a botta? Diciamo che ci può stare. Qualcun altro? Sono pronto ad usare il popa... questo qua, il fucile, 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 questo. 38! Guarda, guarda, anche se lo sparo vicino! Guarda, anche se lo sparo vicino! Madonna! Allora, così, in questo caso, ragazzi, è forte. In questo caso è veramente forte. Perché non c'è bisogno che devi... non devi essere per forza preciso. Ammerdoso! Non rompere le palle! 38! Porca miseria, la safe. Che picchiano? Si sono uccisi? Pom! Pom! Ah! L'ho ucciso! Non so come! Mi ha dato la kill! Godo! Sembra molto forte come... come arma. Vai! 38! Cazzo! Va bene, va bene, va bene! Era un attimo per testarlo! Leggendario! Buonissimo! Ok? 1v1, ragazzi! Porca trota! Vabbè! GG! GG! Vittoria totalmente a caso, con la corona! GG! Ma ragazzi! Tenetelo d'occhio, sto fucile da caccia esplosivo! Perché veramente... Sembra... Sembra... Tanta, tanta roba! Grazie mille per aver visto questo video! Ci vediamo prossimamente... In live! E... Anche in un prossimo video che, teoricamente, dovrebbe uscire lo spazio... E poi ci facciamo la reazione! Grazie a tutti e alla prossima! Ciao, belli!